Il potere delle parole. Citazioni che illuminano. Se non riesci a spiegarlo a un bambino di sei anni, non l'hai capito nemmeno tu, Albert Einstein. Non ci sono errori, ma opportunità per conoscere le cose. Ugo Foscolo. L'amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io, madre Teresa di Calcutta. Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Dalai Lama. Chi ha paura, muore ogni giorno. Chi non ha paura, muore una volta sola. Paolo Borsellino. Non preoccuparti dei numeri. Aiuta una persona alla volta e inizia sempre con la persona più vicina a te. Madre Teresa di Calcutta. Sapere ciò che è giusto e non farlo è la peggiore vigliaccheria. Confucio. Le donne sono fatte per essere amate, non per essere capite. Oscar Wilde. In due parole, posso riassumere tutto quello che ho imparato sulla vita. Va avanti. Robert Lee Frost. Non ho fallito. Ho solo trovato diecimila modi che non funzionano. Thomas Edison. Grazie per aver guardato il nostro video. Ricorda di mettere un like e di iscriverti al nostro canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ricorda di mettere un like e di iscriverti al nostro canale. Ricorda di mettere un like e di iscriverti al nostro canale.